Ciao a tutti ragazzi, io sono Pietro e benvenuti in questo nuovo video. Voglio iniziare il video di oggi in un modo un po' diverso, leggendovi alcuni nomi di aziende. Apple, Nio, Tesla, AMD, Alibaba, Palantir, Netflix, PayPal, Salesforce, Shopify, Airbnb, Uber, Baidu. Ma sto dando i numeri? O meglio, i nomi? No, c'è qualcosa che accomuna tutte queste aziende e ce ne sarebbero state anche altre, ma non le ho messe nella lista per ragioni di spazio. Quelle che vi ho letto sono tutte aziende che negli ultimi giorni hanno visto i prezzi delle loro azioni scaraventati a terra. Si va da un più piccolo 8% dai massimi, come nel caso di Apple, fino ad arrivare a un meno 25% dai massimi, come nel caso di Palantir. E la domanda sorge spontanea, in queste fasi come ci si deve comportare? Ve l'ho chiesto su Instagram in una storia e devo dire che il sondaggio ha avuto dei risultati decisamente interessanti. Ma oggi non sono qui a parlare dei miei sondaggi su Instagram, anche comunque trovate al profilo in sovraimpressione. Pietro Michelangeli, così nel caso dovesse servirvi. Seriamente, che cosa fare in queste fasi? Come comportarsi? Chiunque vede il grafico in picchiata si fa questa domanda e oggi ho voluto stilare una lista di punti e di comportamenti da seguire per comportarsi al meglio durante queste fasi di calo dei prezzi. Vedetela come una sorta di mini guida al crollo, così sapete quando, cosa e come farlo. Ovviamente questo video non sarà sui singoli titoli perché non avrebbe nessun senso, sapete che a me le aziende piace analizzarle e non semplicemente buttarli due cose tanto per dire. Quindi non soffermiamoci troppo sulla singola azienda, ma cerchiamo di capire com'è l'azienda media che ha subito appunto i maggiori cali di prezzo. Tanto per cominciare parliamo di aziende che crescono molto e che soprattutto scontano delle aspettative future decisamente importanti. Prendiamo uno dei titoli che è sceso di più, Palantir. Palantir in questo momento ha un rapporto enterprise value fatturato di 32. Questo significa che per ogni dollaro di fatturato, di vendite generato, gli investitori sono disposti a pagare questo dollaro 32 dollari. Queste cifre possono essere giustificate solo in un modo, ossia che gli investitori oggi accettano di pagare così tanto perché si aspettano che domani questo fatturato andrà ad aumentare tantissimo. Che dire di Tesla? Anche Tesla è scesa molto, ma è comunque cara a mio avviso, ha un rapporto al momento EV e EBITDA di 129. Questo multiplo è molto simile per certi versi al rapporto prezzo utili che avrete sentito più spesso, ma in questo caso siccome Tesla non ha la completa profittabilità su ogni fronte, guardare questo multiplo può essere più interessante. Confrontiamola con un'azienda già al momento profittevole e che comunque continua a crescere tantissimo, come ad esempio Adobe. Adobe per contro ha un rapporto EV e EBITDA di 42, quindi capite bene che è molto più basso. Vi ho fatto questi due esempi perché a mio avviso è scorretto generalizzare e dire che i mercati sono scesi. Non è vero. Sono scesi solo quei titoli che stavano scontando delle aspettative estreme, veramente altissime rispetto alla media di mercato. Nello stesso periodo in cui Tesla scendeva del 30%, altre due aziende di cui vi avevo parlato, Proofpoint e Waste Management, sono cresciute del 22-23% circa. Non lo sto assolutamente dicendo per vantarmi, anche perché in questo momento in portafoglio ad esempio ho un'altra azienda che nello stesso periodo ha performato esattamente come Tesla, se non un pelo peggio ed è Dojo. Il primo punto però di questo video vuole essere proprio farvi riflettere sul fatto che non tutto cala e non è scontato che tutto debba calare. In queste fasi infatti ci si rende conto se il proprio portafoglio è correttamente diversificato oppure no. Quindi punto numero uno, diversificazione. In questo calo di borsa vi siete accorti che il vostro portafoglio ha perso il 30% del valore? Se sì, avete un problema, avete un portafoglio scarsamente diversificato. Se aveste avuto un portafoglio bilanciato, beh, potevate andare a compensare questa perdita magari vendendo delle azioni che invece nel frattempo avevano guadagnato e comprando delle azioni che si erano scese facendo a tutti gli effetti un ribilanciamento. Ma nel momento in cui tutto il vostro portafoglio va a scendere del 20-30% è impossibile ribilanciare perché non avete soldi da tirar via da una parte e metterli dall'altra. Se tutto è in perdita l'unica cosa che si può fare è aspettare. Punto numero due, niente panico. In queste fasi non dovete farvi prendere dall'emozione. Il vostro portafoglio scende del 2-3% al giorno? Vi viene l'istinto di controllarlo in continuazione e ogni giorno è peggio? Beh, bisogna certamente capire qual è il problema e cercare di capire se ha senso fare qualcosa oppure no, ma la prima cosa è non allarmarsi. Sapevate a cosa andavate incontro comprando azioni in fondo, no? E se la risposta è no, beh, ora l'avete imparato. Però anche in questo caso nulla di nuovo, nulla di cui preoccuparsi, si chiama volatilità, bisogna analizzare la situazione in modo lucido e capire se questi cali sono preoccupanti oppure no. Punto numero tre legato al precedente, niente fretta. In queste fasi anche chi è meno emotivo comunque sente una sorta di sensazione che sfrigola, che si chiama fretta. La fretta si può poi tradurre in due comportamenti che sono entrambi da evitare. Fretta di vendere, perché si pensa che i prezzi andranno a scendere ancora e quindi si vuol vendere adesso per limitare le perdite. Oppure fretta di comprare, si pensa che questo è il momento perfetto per comprare, quindi o si compra adesso o non ci sarà più un'occasione del genere per un bel po' di tempo. Quando vi rendete conto che state covando questo tipo di sentimento, fermatevi. Il più delle volte quando è la fretta a dirci che cosa fare, ci sbagliamo. Quindi non devono essere le emozioni a dirvi di uscire il prima possibile o di acquistare il prima possibile, ma dovete farlo in modo ragionato. Oggi noto questo comportamento diffuso soprattutto negli acquisti. Buy the dip, direbbero gli americani, quindi compra sui ribassi, ma non funziona così. Buy the dip rischia di trasformarsi in una tragedia, perché se non si ha una strategia non ha senso comprare ogni volta che i mercati scendono, non ha nessun tipo di utilità. Bisogna comprare quando si vuole comprare. Pensare che ogni volta che scende tanto poi sale è il preludio di un crollo di borsa, di solito. Punto numero 4, che sembra in contraddizione con il precedente, ma non lo è. Non abbiate paura di comprare. In queste fasi si sente spesso dire, è meglio evitare di cercare di prendere un coltello che cade. E no. Questa frase si addice più a un trader, a uno speculatore, che a un investitore. Un trader infatti opera spesso a favore di trend, quindi oggettivamente buttarsi contro trend non è mai una grande strategia il più delle volte. Mentre a un investitore non dovrebbe fregare assolutamente niente del trend. Se finalmente, dopo settimane o mesi, l'azione che avevate puntato ha raggiunto il livello che vi interessa, non c'è nessun coltello. Anzi, è una buona occasione oggettivamente per comprare. Un'azione che prima non era interessante, adesso lo è diventata. Pensate che il titolo scenderà ancora e quindi vi preoccupa l'idea di entrare in posizione? Perfetto, non metteteci tutto il capitale, comprate un terzo di quello che volete comprare e i restanti li tenete in liquidità pronti per eventuali ribassi. Certo, così esponete al fatto che potreste sbagliarvi e quindi il prezzo potrebbe non scendere ma semplicemente rimbalzare. A quel punto vi ritrovate con della liquidità, ma se volete tutelarvi questo è il modo migliore. Numero 5. Sapere quando comprare. Nel mondo degli investimenti, quando si parla di quando, raramente ci si riferisce a un momento temporale, quanto più ha dei prezzi. E il più delle volte questo quando è quando il prezzo raggiunge il mio target d'ingresso. E a questo punto la domanda successiva è sapete quando entrare in un'azienda? Sapete qual è il vostro prezzo d'ingresso? Se mi chiedete infatti quando entrerò in Tesla, beh, ce l'ho un mio prezzo che è abbastanza lontano dai prezzi attuali, ma dovesse arrivare a questi prezzi, beh, chiaramente valuterò appunto di entrare perché ha raggiunto il prezzo che mi interessa. Fino ad allora niente buy the dip, se Tesla scende del 10, del 20% e non arriva al mio prezzo d'ingresso, non mi interessa. Non è il mio quando, non è il mio momento. Al contrario ci sono delle aziende che sto seguendo che sono quasi arrivate ai miei livelli di ingresso e quindi sono qua pronto perché quando dovessero raggiungere questi livelli io entro in posizione. Io personalmente sono un value investor e quindi il mio quando entrare in posizione si basa semplicemente su una strategia di comprare quando il prezzo è inferiore al valore dell'azione. Ho fatto una serie di video su come valutare un'azienda e ve la lascio qui in alto. Ultimo punto che sembra banale ma vi assicuro non è per niente da sottovalutare. Basta leggere le notizie. Il 90% delle notizie finanziarie non dà alcuno spunto utile, semplicemente vi bombarda di emozioni, di titoli, di notizioni che di fatto non fanno altro che influenzarvi, spaventarvi o rendervi euforici. Il 5% delle notizie finanziarie sì, forse ha qualche spunto utile ma comunque sommerso da emotività e titoloni clickbait. Il 4% delle notizie è oggettivamente utile. Sono magari notizie che riguardano le aziende che interessano a voi, che hanno fatto delle determinate decisioni di impresa che potrebbero cambiare il futuro drasticamente dell'azienda. E l'1% rimanente sono i miei video, quelli guardateli sempre. Ok, percentuali a caso a parte, capite bene che a parte i miei video non ha molto senso bombardarsi di notizie, soprattutto in queste fasi dove già per via delle performance che fanno i nostri portafogli siamo abbastanza vulnerabili. Se inoltre ci bombardiamo di roba di questo tipo non aiuta. I media tradizionali per quanto riguarda le notizie finanziarie in questo momento stanno facendo l'esatto opposto di quello che sto cercando di fare io, ossia tranquillizzarvi. Io infatti non sono qua a dirvi andrà tutto bene, comprate tranquillamente, oppure andrà tutto male, vendete, ma semplicemente fermatevi un secondo, ragionate a mente fredda. Come se non bastasse poi in questo periodo c'è anche quella categoria di notizie di false spiegazioni. Ad esempio il Nasdaq ieri ha perso il 2%, state pur certi che oggi troverete un sacco di articoli che cercheranno di spiegare il motivo di queste performance. È uscito questo dato, questa persona ha detto questa cosa, questo parametro è cambiato, cose di questo tipo. C'è semplicemente un motivo per cui il Nasdaq è sceso, la gente ha venduto e per i motivi più disparati non si possono riassumere in un articolo. E magari sono dei motivi pure futili. Inutile, completamente inutile cercare di trovare spiegazioni per i movimenti giornalieri. Chi se ne frega, noi stiamo investendo. Quindi leggetevi un bel libro, non le notizie. Ragazzi per questo video è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate lasciando prima di tutto un bel mi piace se avete apprezzato e poi ditemi qua sotto la vostra, voi come vi comportate in queste fasi, anche voi fate come me, quindi cercate di tranquillizzarvi oppure fate diversamente. Scrivete tutto qua sotto. Inoltre iscrivetevi perché sto preparando un sacco di video per i prossimi giorni, quindi non perdetevi e schiacciate anche sulla campanella visto che YouTube a quanto pare non ci degna di informarci dei canali a cui siamo iscritti. Grazie YouTube. Per oggi quindi è davvero tutto, io vi saluto e alla prossima.